Cani antidroga fiutano dosi di hashish contro gli serrati da parte dei carabinieri denunciate 5 persone in Garfagnana e Mediavalle, giro di vite dei militari anche per arginare il fenomeno della guida in stato di ebrezza. Banca delle Corne al San Luca, salto nel futuro, nuovo farmaco dalla placenta umana, l'ospedale di Lucca tra i primissimi centri in Italia a distribuire la membrana amniotica in una nuova forma. Nice to meet EU, un convegno sull'Europa che verrà a un mese dal voto gli studenti delle scuole superiori, protagonisti dell'evento organizzato dall'amministrazione provinciale. Calcio Givi 10 e Lode, Lelli al congedo, il giovane tecnico del Givi Borgo, uno dei protagonisti dello splendido campionato di Serie D, chiuso all'ottavo posto, ha annunciato il suo congedo al termine della gara col Gavorrano. Ucci e Rudy alla sfida della targa Florio, venerdì e sabato l'edizione 108 della mitica corsa siciliana, terza prova del CR 2024. Grandi favoriti, Crugnola e Basso, tra le due ruote motrici cercano conferme Pisani e Lucchesi Junior. Ben trovati spettatrici e spettatori a un nuovo appuntamento col TG Noi, Lucca e Valle. Apriamo con la cronaca perché sono stati effettuati controlli serrati tra la Garfagnana e la Media Valle da parte dei carabinieri con un determinante intervento dell'unità cinofila di San Rossore. Tre patenti ritirate per guida in stato di ebrezza e cinque persone segnalate come assuntori di stupefacenti. Questo è il risultato di un controllo straordinario sul territorio della Valle del Serchio effettuato in queste sere dai carabinieri della Compagnia di Castelnuovo. Tre persone sono state denunciate perché dalle verifiche alcolemiche militari hanno rilevato tassi superiori ai limiti previsti dalla legge, con conseguente ritiro delle patenti di guida. Altre cinque sono state invece segnalate alla Prefettura di Lucca, quali assuntori di sostanze stupefacenti. Durante questi controlli sono stati nello specifico sequestrati in totale anche 10 grammi di hashish, determinante per scovare la droga il contributo di un cane antidroga appartenente ad un'unità cinofila del nucleo carabinieri di San Rossore, che ha partecipato alle operazioni. I controlli straordinari erano finalizzati al controllo e alla sicurezza della circolazione stradale, oltre che al contrasto alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, e hanno visto impegnate nel territorio dei comuni della Garfagnana e della Mediavalle diverse pattuglie. Nel corso di questa attività decine anche le contravvenzioni elevate per violazione al codice della strada. Restiamo sulla cronaca perché c'è stato un incidente sul lavoro in località Metatino a Castelnuovo di Garfagnana. Un uomo di 59 anni è rimasto schiacciato sotto un escavatore mentre stava effettuando alcuni scavi nell'azienda di famiglia. L'infortunio è avvenuto poco dopo mezzogiorno. Il lavoratore, che non ha mai perso conoscenza, ha riportato traumi in diverse parti del corpo ed è stato trasportato con l'elisoccorso a Cisanello. A supporto anche i mezzi della misericordia di Castelnuovo, l'azienda sanitaria ha attivato gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per le indagini del caso. Una squadra di vigili del fuoco ha collaborato alle operazioni di soccorso, ha collaborato con il personale sanitario per liberare l'uomo e condurlo in ospedale. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Castelnuovo Garfagnana. E adesso cambiamo argomento perché la banca delle corne di Lucca verso il futuro con un nuovissimo prodotto. Ascoltiamo il servizio. Ha raccolto grande apprezzamento e riscontri positivi da chirurghi toscani e non solo Omogem, il nuovo prodotto distribuito da luglio 2023 dal centro conservazione corne Piero Perelli di Lucca. Si tratta di una membrana amniotica ottenuta da placenta da parto cesareo programmato, messa però a disposizione in un comodo flaconcino. Solo nel 2024 la banca lucchese, che ha sede all'ospedale San Luca, ha distribuito in regione toscana 160 flaconi per le strutture pubbliche. Con questo nuovo aspetto, invece che in forma di frammenti su supporto solido, il tessuto viene infatti inviato ai professionisti che lo richiedono per i trattamenti. Omogem viene prodotto in ambiente a contaminazione particellare microbiologica controllata, confezionato stabilmente in flaconi contagocce da 5 millilitri e congelato a meno 80 gradi. La banca delle corne di Lucca è stata tra i primissimi centri in Italia a distribuire la membrana amniotica in questa nuova forma, sempre e comunque da utilizzare in base alle indicazioni degli specialisti, ma sfruttando la possibilità di somministrare questo tessuto al paziente direttamente a casa, senza necessità di ospedalizzazione. Un passo verso il futuro, sottolinea la ASL Toscana Nord-Ovest, nell'ottica di una sanità di prossimità sempre più vicina alle esigenze dei cittadini. E adesso parliamo della legge recentemente approvata dal Consiglio regionale della Toscana, che porta da un anno a tre anni il tempo che obbliga i gestori a svuotare le piscine. Una nuova norma che soddisfa Confagricoltura. Una vittoria per l'ambiente. Così il presidente di Confagricoltura, Marco Neri, definisce la nuova legge sullo svuotamento delle piscine, approvata dal Consiglio regionale. La Sise Toscana ha deciso di far slittare da uno a tre anni il periodo entro il quale è obbligatorio svuotare l'acqua delle piscine private a uso pubblico. È un altro passo dei nostri agriturismi verso il turismo sostenibile, commenta il numero uno dell'associazione, parlando di un'enorme riduzione degli sprechi idrici e dei costi derivanti. Secondo Neri, l'acqua delle piscine sarà comunque pulita e gli standard igienici dettati dalla legge saranno mantenuti perché, spiega, 15 giorni prima dell'apertura al pubblico dovranno essere effettuati tutti i controlli del caso. E a 13 anni dalla prima versione e a 5 dall'ultimo restyling è online il nuovo sito di Giovani Sì. Il progetto regionale per l'autonomia dei giovani aggiorna il suo principale strumento di comunicazione e informazione per andare incontro alle nuove logiche di navigazione nella rete e di esperienza utenti. Del proprio target di riferimento vale a dire i ragazzi e le ragazze della generazione Z. La nuova veste, la nuova struttura di Giovani Sì.it spiega una nota, rispondono alle attuali esigenze di comunicazione del progetto e alle mutate abitudini di fruizione degli utenti, in particolare alla preminenza della navigazione da mobile. Maggiore visibilità è assicurata ai canali social che seguono l'utente durante tutta la navigazione e aumenta in home page anche lo spazio dedicato ai video. Resta ferma la tutela dell'accessibilità complessiva come richiesto dai parametri fissati per i siti delle pubbliche amministrazioni. Tra i cambiamenti chiave previsti dalla nuova versione. E adesso a un mese dal voto i giovani vanno a lezione di Unione Europea. Per una mattinata hanno provato a vestire i panni dei parlamentari europei presentando idee e proposte e hanno avuto anche l'occasione di scoprire qualcosa in più sul progetto Erasmus che negli anni 90 ha permesso ai ragazzi di allora di diventare cittadini d'Europa. Gli studenti delle scuole superiori della provincia di Lucca sono stati i protagonisti di Nice to Meet EU, l'evento organizzato da Palazzo Ducale a un mese esatto dal voto per le europee. Ormai sono tre anni che va avanti questo progetto Nice to Meet EU e quest'anno appunto i ragazzi si sono impegnati proprio nel provarsi a interpretare dei gruppi parlamentari europei. La cosa che fa piacere è proprio vedere l'entusiasmo dei ragazzi nel partecipare a queste attività e il coinvolgimento delle scuole, dei docenti e delle istituzioni perché questo progetto nasce appunto dalla provincia. Io sono qui a rappresentare un po' il programma Erasmus, sono un'ambasciatrice EDA. I ragazzi sono più aperti di noi, noi eravamo forse un po' più chiusi, avevamo meno esperienza di interconnessione però appunto va promosso il programma perché spesso alcune barriere vanno superate. L'evento si è concluso con il concerto del liceo musicale Passaglia che ha eseguito brani di Giacomo Puccini in occasione delle celebrazioni del centenario della morte del maestro. E a proposito di studenti, hanno prima misurato gli spazi calandosi per un giorno nei panni dei geometri, poi hanno utilizzato il famoso videogioco Minecraft progettando alcuni spazi della città e adesso presentano i risultati del loro lavoro al comune di Lucca in una mostra alla biblioteca Agora. Ha preso il via l'esposizione dei progetti realizzati dagli studenti della scuola primaria di secondo grado Carducci e di quelli della Caster De Nobili che aiutati dai loro quasi coetanei dell'istituto CAT Notolini hanno riprogettato alcuni spazi cittadini. È arrivato quindi alla fase finale l'innovativo e unico in Italia progetto GameCut ideato dal Collegio dei Geometri della provincia di Lucca. Ad inaugurare la mostra, insieme all'assessore all'istruzione del comune di Lucca, Simona Testaferrata, il presidente del Collegio dei Geometri di Lucca, Diego Ragghianti, e Ilaria Bertola della Commissione Scuola e Orientamento. Ed è stata presentata la casermetta San Donato sulle mura di Lucca la nona edizione di CSI in Tour. Un evento che da anni promuove i valori dello sport e di corretti stili di vita, l'etica sportiva come modello educativo per i più giovani. Piazza Napoleone nel Centro Storico ospita sabato e domenica la tappa regionale del CSI in Tour della Toscana. Due giorni di sport e sano divertimento con ingresso gratuito per tutti e omaggio per bambini e ragazzi, un villaggio itinerante dello sport dove si potranno sperimentare dimostrazioni e tornei di molte discipline, tra cui basket, pallavolo, calcio 3x3, danza, arti marziali, dodgeball, rugby, giochi di attività ludico-motore e animazione. Tutto questo insieme a incontri tematici di approfondimento su sport, alimentazione, cultura della salute, disabilità, inclusione, etica e disagio giovanile. Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti riguardanti lo sport di base e coinvolge diverse migliaia di ragazze e ragazzi in 40 giornate su tutto il territorio toscano. La tappa lucchese è stata presentata dal Centro Sportivo Italiano, che quest'anno taglia il traguardo degli 80 anni di esistenza e di attività in Italia. L'edizione 2024 di CSI in Tour è dedicata alla figura della dirigente regionale Paola Garvin, prematuramente scomparsa, che fu artefice dell'ideazione e della realizzazione della manifestazione. Un'occasione dove si sviluppa concretamente quello che è un po' la missione del Centro Sportivo Italiano, è quella di educare attraverso lo sport. Tra l'altro quest'anno il progetto si inserisce all'interno delle celebrazioni per l'ottantesimo del Centro Sportivo Italiano, l'ottantesimo anniversario. Lo celebraremo per tutto l'anno, noi siamo nati nel 1944, quindi siamo sostanzialmente l'ente di promozione più antico che c'è in Italia, quindi con una grossa esperienza, in particolare il settore giovanile. Dallo sport alla musica, appuntamento da non perdere venerdì alle 21.15 al Pinturicchio di Lucca, con musiche da film in concerto. Protagonista la brava soprano lucchese Francesca Maionchi, che sarà accompagnata da Desiree del Santo al flauto e da Anna Cognetta al pianoforte. Sta per partire la terza edizione di Cartacea. Cartacea, un mondo fatto di carta. A Porcari e ai nastri di partenza, la terza edizione della Tre Giorni dedicata a ragazzi e bambini con spazi giochi e laboratori gratuiti. Bambini e ragazzi saranno inoltre coinvolti nella costruzione di un grande labirinto di 5 metri per 5, realizzato con mattoni di cartone riciclato. Gli scout di Capandri lavoreranno all'assemblaggio, mentre gli alunni delle scuole elementari di Porcari e gli studenti dell'artistico di Lucca saranno impegnati nella costruzione vera e propria. Cartacea 2024, da venerdì 10 maggio a domenica 12, è stata organizzata dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi con il contributo di Regione Toscana e Comune di Porcari e la collaborazione di numerose aziende del settore carta. Cartacea celebra il nostro distretto cartario e noi lo vogliamo fare con l'allegria, con la musica, con i giochi per bambini, tanti laboratori, tutti gratuiti, fatti appunto con la carta, col cartone, giochi di legno, insomma tutto quello che ruota intorno alla carta. Ci vogliamo divertire e vi aspettiamo sabato e domenica. La Piana di Lucca rappresenta il fulcro del distretto cartario, da dove arriva la produzione di oltre l'80% del tiscio nazionale e oltre il 40% del cartone ondulato ed accoglie inoltre un enorme indotto sia a livello provinciale che regionale. Una scritta hollywoodiana, sabato sera alle ore 21 lo spettacolo di Paolo Migoni e poi il coro etnico agorà, Dino Mancino, street band, insomma un labirinto realizzato dall'artista Nicola Bertù. Cartacea, un mondo di carta, ci sarà da divertirsi e da imparare tante cose. Vi aspettiamo qui a Porcari. È tutto, ma restate con noi perché tra poco c'è il TG Sport con Guido Casotti.